Ma sono davvero possibili queste trasformazioni fisiche in 30 giorni, 40 giorni, comunque in tempistiche molto brevi e compatte, giusto prima della prova costume, tanto millantate da guru del fitness su YouTube o sui social media? Cerchiamo di fare un ragionamento logico, coerente e sensato insieme, prima però ricordati di iscriverti sul mio canale, attivare la campanellina e seguirmi anche su Instagram come coach Claudio Negro. Quindi queste promesse sono tutto marketing, giusto per vendere, giusto per fare clickbait. Dunque c'è da dire che molto spesso, e ultimamente l'ho visto anch'io sul web, mostrano trasformazioni fisiche in breve tempo, neanche poi così eclatanti, di persone, ragazzi o ragazze che in partenza erano già in straforma fisica. E' ovvio che poi dopo 30 giorni queste persone non possono fare altro che essere ancora di più in forma. Quindi se poi ci aggiungi che magari enfatizzano da un lato, quindi si fanno vedere fuori forma, quindi fanno finta di essere fuori forma, magari gonfiano la pancia, non usano bene le luci, dall'altra parte invece si mettono nelle migliori condizioni per realizzare la foto, ecco che il gioco è fatto. Quello che devi capire o quello che devono capire le persone se vogliono ottenere una trasformazione fisica e soprattutto se si parte da un livello in cui siamo veramente lontani dalla forma fisica, beh ti devi mettere in testa che devi fare un percorso a lungo termine. Non c'è niente da fare. Anche le persone in forma che si allenano, si allenano in palestra, poi magari vogliono fare la classica fase dove si asciugano di definizione, partono già da una buona base, quindi si allenano, sono forti, hanno una buona dose di muscoli, però magari hanno una percentuale di grasso del 15, 16, tra il 15 e il 18%, oppure tra il 15 e il 20%, quello è un po' un range cattiva forma per chi è in forma, passami il termine. Beh queste persone che poi vogliono tirarsi, quindi scendere a una percentuale intorno al 10%, che è già una percentuale molto estetica, partendo da una condizione estetica, attenzione non condizione atletica, che sono due cose diverse, comunque partendo da una condizione estetica che è già buona, su cui c'è una buona base, e beh devono comunque, mettono un conto, che devono fare un percorso che va come minimo dalle 16 alle 20 settimane, quindi si parla di 4-5 mesi per ottenere un certo livello di forma, partendo da una base già buona, quindi capisci un po' quali sono le proporzioni. Poi ci sono tante considerazioni da fare, se sei uno che tendenzialmente è vagamente sportivo, o poco più che sedentario, non ha mai fatto dieta, è sovrappeso, magari ti metti a fare una dieta drastica, magari togli i carboidrati improvvisamente, riesci a perdere parecchi chili, riesci a vedere parecchi chili in meno sulla bilancia, ma questa è una cosa diversa che magari ottenere delle qualità fisico-estetiche. E poi insomma ci sono altri mille discorsi, certe persone magari che vogliono ottenere trasformazioni fisiche, prima devono costruire le condizioni per poi riuscire a fare quel tipo di percorso. Insomma, le variabili sono tante, ma in linea di massima, più sei distante da una condizione di forma fisica d'eccellenza, più devi fare un percorso a lungo termine. Almeno a medio termine lo mettono in conto coloro che già si allenano tutto l'anno, tutti gli anni e semplicemente poi quando devono affrontare una fase, che è quella che poi gli porta all'estate, di asciugarsi, di definizione, già mettono in conto che il percorso deve essere almeno a medio termine e poi magari hanno passato tutta la restante parte della stagione a costruire queste famose basi per poi ottenere un punto, la trasformazione. Grosso modo era il discorso logico, coerente, senza illusioni. Quindi chi ti promette veramente certe cose, ecco, in tempistiche troppo ristrette, è un po' il metro di misura per capire se ti prende per il culo, è solo marketing, è un millantatore, è un ciarlatano e così via. Spero di essere stato chiaro, qua sotto trovi tutti i link per la mia cad e mi trovi delle risorse gratis da poter scaricare. Ci vediamo al prossimo video, ciao!